Buongiorno, bentrovati. Giovedì 11 ottobre 2018, consueto appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, la lettura dei quotidiani in primo piano, come sempre l'apertura dedicata alle prime pagine dei giornali abruzzesi. Oggi in edicola partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara per parlare delle case degli sfollati. Dopo due anni, infatti, riprendono ufficialmente questa mattina i lavori in Via Tronto. Gli alloggi 64 saranno pronti in nove mesi, saranno destinati proprio agli sfollati del quartiere Rancitelli. Vediamo anche a centro pagina il grazie di Pescara, la suora che aiutava i poveri. Ieri c'ha Tedoro alla memoria a suor Olga Pignatelli, instancabile suora, diciamo in aiuto da sempre. La Caritas di Pescara, scomparsa di recente, che ha messo sempre al primo posto la sua dedizione ai più sfortunati. Più tardi vedremo anche il servizio sulla cerimonia che si è tenuta ieri a Palazzo di Città a Pescara. Vediamo le altre notizie. Ancora a Pescara, gli operatori, un confronto sui tavoli all'aperto, operatori commerciali, si parla del regolamento sui Deor che consentirà l'allestimento degli spazi esterni ai locali. Francavilla è più sicura, siamo nella cittadina adriatica, installate 10 telecamere per la videosorveglianza e poi Lanciano, l'assalto in villa, la fuga a tappe del capobanda. E poi torniamo a Pescara, studente disabile, riparate l'ascensore. La provincia interviene sul caso del ragazzo del Misticoni, costretto a restare a casa. Vediamo poi di spalla. Parla il ministro Fraccaro che dice il governo scommette sull'Aquila. Vediamo altre notizie. In primo piano che riguardano la nostra regione, sanità. Il nuovo piano salva gli ospedali di Atessa e Popoli. E poi Masterplan Abruzzo, spuntano le mail di Lezzi e Toninelli. E poi ancora strada dei parchi, ora sbloccate i 200 milioni per i lavori. Si era parlato di questa vicenda nei giorni scorsi, due giorni fa, quando il presidente vicario della regione Giovanni Lolli aveva lanciato l'allarme sul fatto che il governo voleva bloccare i fondi del Masterplan per utilizzarli, per la messa in sicurezza delle autostrade. Sembra questa paura, questo timore, sembrano svaniti, ma nelle prossime ore sapremo qualcosa di certo. Vediamo l'ultimo titolo in basso che riguarda sempre la nostra regione. L'indagine del Cresa in Abruzzo, 446 idee geniali, nuovi brevetti. La nostra regione sale in classifica nazionale, infine il calcio azzurro. L'Italia, azzurri belli solo a metà, finisce in parità la sfida di ieri sera con l'Ucraina a Genova. Vediamo la prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. Partiamo da Chieti. Di primio il sindaco perde la maggioranza, salta il Consiglio Comunale tra le polemiche. E di primio lancia a Custe. Vediamo a centro pagina la star della cucina San Martino sulla Marrucina. Bastianice diventa ambasciatore dei prodotti tipici della nostra regione. A Tessa, ex Oniwell, piace il piano della Emarche. Poi Vasto, rospo di mare, il comune in cassa, 2 milioni. Ancora Chieti, la rinascita di Gasbarri, ora in segno, pittura. E poi torniamo alla vicenda dell'assalto in Villa Lanciano, in fuga con tappe a Brescia e Venezia. Assalto a Villa Martelli, ricostruite dagli inquirenti le soste delle giovane arrestato in Romania. Vediamo la prima pagina di Teramo, sempre dalle colonne del centro. Sisma, ricostruzione privata ferma in provincia di Teramo, bloccati i lavori per oltre 125 milioni di euro. E poi il giallo della pittrice di Giulianova, Santoleri, non lo accusai, avevo paura di mio figlio, parla il marito della donna scomparsa. Vediamo anche le altre notizie. Tortoreto, scoperti ladri dei colpi nelle case in collina. E poi Mosciano Sant'Angelo, ecco un impianto Enel a servizio di 20 mila utenze. E poi radiologia di Teramo, nuovo primario, ma i medici diffidano la ASL. Ci spostiamo poi a Roseto con questo titolo a centro pagina. Multiarraffica, assolto l'ex capo dei vigili urbani, mille contravenzioni dalla sua auto per il giudice. Il fatto non sussiste. Vediamo la prima pagina di L'Aquila, Vezzano Sulmona, sempre del centro. Ritroviamo in questo caso in primo piano il titolo che riguarda la ricostruzione. Il ministro Fraccaro, il governo, dice pensa all'Aquila. Il ministro oggi interviene all'apertura del festival della partecipazione. Dall'Aquila ci spostiamo ad Avezzano. Sitin di protesta contro l'impianto di compostaggio. E intanto la Cesca denuncia un medico. Vediamo e poi di spalla le notizie che troveremo all'interno del giornale. L'Aquila minaccia video al sindaco Biondi, scatta l'inchiesta. E poi a Vezzano gli ambulanti compatti dicono no agli stalli. E poi sul Mona niente mensa e a scuola arriva il diktat sui pasti. Vediamo anche la cronaca che ci porta ancora, ci riporta all'Aquila. Due intossicati per il cloro in piscina, vedete il titolo. L'Aquila paura a verde acqua durante il rifornimento della sostanza. Chiuso l'impianto. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Autostrade stoppa i lavori. Il dirigente del ministero messa in sicurezza solo con la copertura economica. Torna l'ipotesi degli aumenti dei pedaggi. Diminuisce il traffico su A24 e A25. Vediamo un altro titolo che riguarda Pescara. La nuova caserma dei vigili del fuoco potrebbe avere vista mare, potrebbe sorgere dunque nella zona della riviera di Pescara. E poi l'allarme, il gran sasso su scienze, l'inchiesta sui laboratori. Vediamo anche a centro pagina. Assalto alla villa, la superbanda, altri complici. Lanciano dopo i sei arresti. De Romeni, gli investigatori cercano nuovi sospetti. L'Aquila, intossicati dal cloro della piscina. Soccorse tre persone, non sono fortunatamente in gravi condizioni. Ortona, nei guai per i soldi. Dei parcometri. Vediamo anche in alto dei richiami su altri argomenti, notizie che ritroveremo all'interno del giornale. Partiamo dagli avvistamenti di UFO sulla costa abruzzese. Quarant'anni dopo resta il mistero. E poi il calcio. Real Giulianova avanti in Coppa Italia. Grazie ai gol di Di Paolo, battuto il cassino per 2-1 nella seconda parte di mattino 6. Vedremo il servizio sulla partita giocata ieri al Rubens Fadini. E poi calcio di Serie B. Il presidente del Pescara, Sebastiani, avverte non guardare la classifica per adesso. Viviamo alla giornata, dice il patron Biancazzurro. Ricordiamo che sabato il campionato serverà un turno di sosta proprio per gli impegni della Nazionale. Con il Pescara che tornerà in campo il 19 ottobre, venerdì 19 ottobre alle 21 allo Stadio Picco di La Spezia. Vediamo la prima pagina del quotidiano. La città rotonda ipogea pronta per fine anno. Ieri mattina l'incontro tra gli amministratori e rete Ferrovie Italia. E poi le elezioni alla provincia di Bonaventura e D'Alonso. Ieri mattina in Via Milli, una poltrona per due. E poi la cronaca, giudizio per la rapina con lo spray, a finire nei guai. Quattro giovani di Roseto degli Abruzzi. E poi cronaca giudiziaria, cantoniere Anas condannato per concussione. Poi vicenda dell'ipersimpli, licenziamento per puntare alla cassa. Integrazione. E poi la stangata, in arrivo le cartelle Tari con gli aumenti. E poi lo sport, come vi dicevo, Giulianova, re di Coppa Italia. Battuto anche il Cassino. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere invece i giornali nazionali. Partendo dal Corriere della Sera. L'allarme rating per la manovra, attenzione sui tagli. Fitch, una delle agenzie di rating, parla di rischi per il nostro paese. Il Quirinale, niente liti con l'Unione Europea. E poi il maltempo che dalla Spagna si è spostato nel nostro paese. Crollo in Sardegna. Liguria, scuole chiuse. Allerta nelle due regioni, Sardegna e Liguria. Per piogge torrenziali previste nelle prossime ore. E a tal proposito, vedete, bomba d'acqua fa cedere una strada nel Cagliaritano. Vediamo Repubblica. Manovra, i conti non tornano. Rischio rinvio per le pensioni. La riforma partirebbe da marzo. Allarme del Colle sulla Fornero. Ministeri, un miliardo di tagli. Vediamo anche quest'altra notizia. Anzi, queste altre due notizie, per meglio dire. Assalto ai centri per rimpiego con il reddito di cittadinanza. Truffe, non si salva neppure Berlino. E poi Avellino e Ponte Morandi. Bus nel burrone per l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Chiesti dieci anni. Decreto Genova. Cantone denuncia il pericolo mafioso. Andiamo a vedere un altro giornale che è il fatto in questo caso. E ritroviamo lo stesso titolo di Repubblica. Ecco qui il titolo a tutta pagina. Avellino come Genova strage per i profitti di Autostrade S.p.a. Per i 40 morti del 2013. L'EPM chiede dieci anni per l'amministratore delegato Castellucci. E poi in alto la manovra economica del Governo resta così. Conte chiama cassa, depositi e prestiti. Vediamo il prossimo quotidiano, il prossimo giornale con la sua prima pagina. Si tratta di Libero. Prime crepe nel Governo. Aumentano le tasse e girano le scatole. Gli economisti della Lega sbuffano perché devono rinunciare al taglio dei balzelli. Per il reddito di cittadinanza. Vediamo anche il messaggero nazionale. Un assunto per ogni pensionato. Patto, governo, imprese, di Stato. Vertice con le partecipate. 20 miliardi in più in 5 anni per gli investimenti. Vediamo poi altri argomenti. Scuola, prof in fuga, trasferimenti bloccati per i nuovi docenti. E poi maltempo in mezza Italia. Come dicevamo, soprattutto nella zona tirrenica del nostro paese. In Sardegna crolla un altro ponte. Vedete questa immagine ripresa dall'alto con il ponte crollato, diviso in due. Siamo al giornale. Salasso di Stato, l'oro alla patria. Il governo chiede soldi ai cittadini e aziende. 8 miliardi di tasse. Bomba sui mercati. Mudis e Fitch pronte a declassare l'Italia. E l'elogio giallo-verde alla Fornero. Diventa un caso. Il mattino di Napoli. Patto, governo, aziende di Stato. Vertice a Palazzo Chigi. Un assunto ogni pensionato. E un aumento degli investimenti. Vediamo poi a centropagina il richiamo anche dell'articolo all'interno che riguarda l'Italia. Mancini caos. L'Italia delude ancora. Insigne. La nazionale non è il Napoli. Pari con l'Ucraina. Per l'Italia la vittoria. Manca da 18 mesi. E poi sul quotidiano napoletano troviamo ovviamente la vicenda della strage di Avellino. Il PM 10 anni. All'amministratore delegato di Autostrade. Bus caduto dal viadotto. Le pesanti richieste di condanna. L'azienda ha i vertici contestato un reato amministrativo. Vediamo il manifesto. Contro il DEF piomba l'allarme di Fitch. L'agenzia di rating. E poi vedete a centropagina. Non si ferma la protesta dei lavoratori della AG di Torino. Caffè Amaro. Lavoratori che come leggiamo da questo titolo. Sono minacciati di licenziamento dalla multinazionale olandese EGDE. Che è proprietaria del marchio. Vediamo il sole 24 ore. Bot. Tassi raddoppiati. Jep Morgan. Nessun crollo. Si parla ovviamente dei tassi che sono saliti per quanto riguarda i bot. Ma poi si parla anche di crollo che viene escluso dalla Jep Morgan. Alcuni dei nostri fondi stanno aumentando l'esposizione in BTP. E poi lo spread non supererà stabilmente la soglia d'allarme di 400 punti. Ma poi c'è anche questa dichiarazione dell'agenzia di rating Fitch. Rischi considerevoli per l'Italia dai target della manovra. La specie dopo il 2019. E vedete ieri il tonfo della borsa di New York. Che ha chiuso con un meno 3,1%. Trascinando in rosso anche le borse europee. Tra cui ovviamente anche quella di Milano. Siamo alla stampa di Torino. Lo stop del presidente Mattarella. Basta sfide l'Europa. Def gli errori nei conti. E poi ritroviamo anche sulla stampa il maltempo. La strage di turisti a Mallorca. Ci sono stati diversi morti. E poi è allerta nel nord-ovest. Soprattutto in Liguria, in Piemonte. E come detto anche in Sardegna. Dove è crollato un ponte. Il quotidiano La Verità preparano un altro governo Monti. In patria e fuori i ministri italiani sono visti come barbari da abbattere a colpi di spread. Prima che infettino il continente. Loro fanno errori. Ma l'alternativa è da brividi il ritorno dei tecnici. E poi una dichiarazione del Papa. Papa Bergoglio che dice l'aborto è omicidio compiuto da Sicari. Vediamo anche il tempo. Trova la differenziata. Si parla di Roma. Roma sommersa dai rifiuti. L'emergenza costa 700 milioni l'anno ai romani. Il secolo d'Italia. Un club di usurai. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice i nemici dell'Europa sono proprio quelli che hanno trasformato un sogno di solidarietà, una grande civiltà, in un club di un gruppo di usurai. Vediamo anche il secolo XIX, il quotidiano di Genova. Si parla proprio della vicenda del ponte del viadotto crollato. Cantone, presidente dell'ANAC, frena il decreto. Troppe deroghe e rischio infiltrazioni mafiose. L'inchiesta scopre che il carroponte era fuori uso molto prima del crollo. Poi altri titoli, sempre sul quotidiano genovese. Mattarella sui conti, non sfidare l'Europa. E poi vedete la notizia con ampio spazio alla gara dell'Italia che si è giocata proprio ieri sera a Genova, in ricordo anche e soprattutto delle vittime del crollo del viadotto. Palla ferma e tanti applausi al 43esimo minuto della gara proprio per ricordare le 43 vittime della tragedia di Genova. Vediamo anche il quotidiano della CEI a venire. La caccia del tesoro. Tagli, nuove entrate e investimenti per la manovra. Fitch vede rischi per l'Italia ma i vicepremieri insistono. Noi pensiamo ai cittadini. Tria cerca coperture. Il ministro sostegno. Dalle è controllate. Lasciamo dunque l'edicola nazionale con a venire che era l'ultimo giornale che abbiamo preso in esame. Torniamo al centro. Torniamo a parlare del blocco del masterplan. I 200 milioni restano ancora per il momento fermi al palo. Parla Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi. I fondi ci servono per completare, dice Fabris, la messa in sicurezza dei viadotti. E spuntano, restiamo ovviamente in argomento, le lettere di Lezzi e Toninelli. L'accordo tra Governo e Regione Abruzzo c'era ma era quello di anticipare i lavori per A24 e A25 con fondi non vincolati. Vedete poi in basso, dietro front del Governo, il CIP non decide. Lolli, in missione a Roma, lo aveva detto anche ai nostri microfoni lunedì, in occasione della conferenza stampa tenuta a Pescara, smascherato l'errore, ma adesso, dice Lolli, bisogna procedere con le modifiche in caso di mancato passo indietro del Governo. Lolli aveva detto a chiare note, a chiare lettere, che ci sarebbe stata davvero una protesta eclatante degli abruzzesi a Roma. Parliamo della sanità abruzzese, in questo caso cosa cambia? Atessa e Popoli messi in salvo i due ospedali, in anteprima le modifiche finali al piano che saranno votate domani dalla Giunta regionale. Vedete la mappa, si parla di ospedali di primo e di secondo livello, è arrivata comunque l'attesa notizia per due ospedali, quello di Atessa e quello di Popoli. Vediamo poi in basso quello che accade per gli altri ospedali, Guardiagrele rimane con gli altri quattro in serie B, resta ospedale di comunità, quello di Guardiagrele, assieme a quelli di Gissi, Casoli e Pescina, Tagliacozzo. Andiamo avanti, siamo ancora alla cronaca regionale, in questo caso parliamo di una indagine del Cresa, nuovi brevetti, 446 domande in sei mesi, l'Abruzzo risale alla classifica nazionale, si piazza al tredicesimo posto, Pescara e Chieti le città con il più alto numero di richieste. E poi la notizia di politica che riguarda l'europarlamentare europea, Daniela Aiuto, che dà l'addio al Movimento 5 Stelle, lo staff ci controlla vita, abiti e social, dunque lascia il Movimento 5 Stelle, l'europarlamentare Daniela Aiuto. Andiamo in basso per parlare di altri argomenti, la Fondazione Spaventa ha organizzato un incontro con il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moaure, con il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni, l'incontro ci sarà a Pescara venerdì 16 novembre all'Aurum, anzi, pardon, nella Sala Consigliare del Comune di Pescara. Mentre sabato ci sarà un altro importante convegno a Pescara, questa volta sì all'Aurum, per parlare di rigenerazione urbana. Andiamo a vedere le pagine dalle province, partiamo da Pescara, le regole per esercenti di bar e ristoranti, gli operatori tavoli in strada, ora il Comune ci convochi, sono soddisfatti per la nuova disciplina sugli spazi esterni e locali, ma sollecitano un confronto di lavoro con la Commissione Commercio. Vediamo poi in basso una notizia che riguarda la cronaca, arrestato dopo un inseguimento in via Riosparto, non si ferma ad un controllo, poi va a sbattere con un'auto in sosta. Poi manutenzione delle caserme, troppi disagi per i lavoratori, questa è la denuncia di Cigierle e Cisle. E poi si parla di marketing digitale, oggi all'Auditorium Flaiano, in occasione di una manifestazione, di un Open Day organizzato da Radio Delta 1. Siamo alla cerimonia che si è tenuta ieri in comune a Pescara, la consegna dei chatte, dei delfini d'oro, a personalità che si sono distinte in vari campi, dalla sanità, alla cultura, alla musica, alla solidarietà, da Paglione a De Angelis, tutte le beneverenze, a chi ha onorato Pescara, ma ci sono state soprattutto, c'è stata la consegna di due chatte d'oro alla memoria, due personalità che hanno fatto sicuramente la storia di Pescara, la prima a suo Rolga Pignatelli, che ha lavorato per una vita con la Caritas al servizio dei più bisognosi e poi un altro chatte d'oro alla memoria di Edoardo Tiboni, l'inventore dei premi e flaiano della più importante manifestazione che si tiene nella nostra città. Allora andiamo a vedere il servizio proprio che abbiamo realizzato ieri su questa cerimonia che si è tenuta in comune a Pescara. Nel giorno della festa del patrono di Pescara San Cetteo a Palazzo di Città si è tenuta la tradizionale cerimonia della consegna delle benemerenze civiche del capoluogo adriatico. Chatte d'oro alla memoria suor Maria Olga Pignatelli, suora comboniana missionaria e storica volontaria della mensa Caritas e ad Edoardo Tiboni, patrono dei premi internazionali flaiano. E poi chatte d'oro 2018 ad Antonella De Angelis, musicista, Augusto D'Agostino, professore di educazione fisica, Antonio Del Giudice, giornalista e storico direttore del Quotidiano Il Centro, padre Fiore Paglione, musicista e maestro fondatore della corale polifonica di Sant'Andrea, Michele Ramenghi, pediatra, fondatore del reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Pescara, Franco Summa, artista poliedrico, del fino d'oro, a Pierluigi Ciocca, banchiere e autorevole economista, direttore generale della Banca d'Italia per undici anni, Luigi Falconi, pittore prodigio, Andrea Principe, magnifico rettore dell'Università Luis Guido Carli e infine a Giovanni Pettorino, ammiraglio e comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. È una giornata di festa e abbiamo la sala consigliare grimita di persone, è davvero un bellissimo colpo d'occhio. Poi ci piace pensare che attraverso i premi che ogni anno individuiamo fra pescaresi e non eccellenti ci sia anche un messaggio di positività da lanciare al di fuori di queste mura, cioè l'idea che attraverso storie di vita esemplari si possa recuperare quel senso di comunità che ogni tanto sembra vacillare, si possa contrastare un generale imbruttimento che si riscontra in giro, si possa in qualche modo contrastare quella tentazione spesso denunciata con Rado Alvaro in primis che vivere rettamente sia inutile. Insomma, serve a recuperare il senso di comunità. Oggi siamo qui tutti col vestito della festa, con lo standard, con i vigili in alto uniforme e attraverso appunto questa giornata vogliamo lanciare un messaggio di positività alla comunità pescarese che è una grande comunità e che naturalmente ha bisogno ogni tanto di qualche iniezione di fiducia che mi piace pensare una giornata come questa possa dare. Restiamo a Pescara il caso dello studente disabile. Riparate subito l'ascensore per Federico, la presidente facente funzioni della provincia oggi al Misticoni e i ragazzi convocano un'assemblea d'istituto sul caso. A Chiara la borsa di studio parete l'ex studentessa del Da Vinci premiata alla Bocconi con il manager Colao e poi iniziativa del Rotary Club Pescara Nord da Cerbo sabato la premiazione degli studenti più meritevoli. Proseguiamo con un'altra pagina del quotidiano Il Centro l'incompiuta di Via Tronto sbloccati i lavori per 64 alloggi le case agli sfollati di Rancitelli questa mattina si terrà una conferenza stampa proprio per la consegna dei lavori. in piazza il sit-in contro gli sfratti l'unione inquilini e rifondazione tanta gente costretta a vivere in macchina ieri vi avevamo proposto anche il servizio su questo sit-in che si è tenuto in piazza Sacro Cuore a Pescara mamma di due bimbi perde lavoro e casa Francesca racconta il suo sfratto nel giro di una settimana dice mi è crollato il mondo addosso ancora cronaca di Pescara Battestini non li rinego più oggi dico grazie i miei fratelli in un libro a fumetti autobiografico Roberto racconta l'altra faccia della storia criminale di Rolando e Pasquale 14 e 19 anni più grandi di lui la sofferenza di allora dice oggi mi ha salvato andiamo avanti siamo a Montesilvano il progetto con il centro Trisi che diventerà una cittadella dello sport l'aggiunta approva un mutuo di un milione per la ristrutturazione dell'impianto e poi la proposta degli albergatori tassa di soggiorno a 50 centesimi bimbi gratis a Montesilvano e poi la salute a tavola vedete in basso spiegata da chef e medici sabato torna cibo e salute l'evento sul benessere alimentazione dedicato al dottor salvatorelli siamo ancora alla pagina della provincia di Pescara vendita della farmacia comunale verificare la regolarità città Sant'Angelo il consigliere regionale pettinari solleva dubbi sulla giudicazione a una società attiva nel settore sanitario dice il consigliere regionale la legge lo vieta e poi al liceo spaventa lezione su come salvare una vita con i volontari della misericordia di Pescara e poi elezioni provinciali il PD elezioni provinciali di Pescara in questo caso il PD candida di Lorito la direzione accoglie la proposta dei giovani DEM Mastrangelo e il miglior dice candidato possibile e poi la cronaca Cappella e 53enne esce di casa e scompare ricerche in provincia di Pescara andiamo a vedere un'altra pagina della cronaca di Pescara e della provincia e dell'Interland in questo caso sicurezza in città ecco le prime dieci telecamere Francavilla alvio primo lotto di lavori sei monitor installati sul nazionale e poi San Giovanni Tiatino il Movimento 5 Stelle al sindaco Marinucci sul progetto di Rete Ferrovia Italia nessun atto ufficiale dicono i pentastellati siamo alla pagina dell'area Vestina e dell'alta Val Pescara partiamo dall'alto Rosciano incidente con il trattore grave 57enne ricoverato all'ospedale di Chieti nell'isoccorso e poi Penne nasce la cabina di regia sul turismo obiettivo del comune di creare un'associazione di scopo per attivare progetti che favoriscano attività di incoming e poi turismo lento ancora Penne riattivati i vecchi sentieri cittadini spostiamoci nella parte bassa della pagina Catignano go-kart Mattia De Flesce vice campione italiano Endas e poi all'anno il comune acquisisca gli immobili abbandonati questa la proposta dell'opposizione in consiglio comunale ad all'anno e ad all'anno scalo festa dell'uva con sfilata di carri quadriglia e piggiatura del mosto in piazza siamo a Chieti scontro in comune di primio senza numeri cade il consiglio comunale la prima seduta dopo il ritiro delle dimissioni il primo cittadino non ha la maggioranza e accusa vittima di traditori e opposizione andiamo poi in basso Scopino si ritira sfida 2 per la provincia restano di primio e pupillo il sindaco di Montelapiano e il trionfo delle vecchie logiche dei partiti dice Scopino che si ritira dalla competizione Lanciano l'assalto sciocca la villa la fuga del capo tappe a Brescia e Venezia ricostruite le soste del 34enne arrestato in Romania e poi occupazione ex-honeywell piace il piano e-mark torna la speranza per i lavoratori dell'azienda di Atessa e poi la matera d'Abruzzo svela i suoi tesori Penna Piedimonte protagonista delle giornate fai d'autunno con le case scavate nella pietra festa con Masterchef tutti i piazzi per Joe e l'ambasciatore dei prodotti tipici San Martino sulla Marruccina il comune premia Bastianich un paese da film di Fellini il vino dice Bastianich e un tesoro da esportare vedete le foto con la cerimonia di premiazione siamo a Teramo la ricostruzione privata terremoto bloccati lavori per 125 milioni di euro sono 1235 le richieste e sono 20 i decreti di liquidazione 5 di case 15 di aziende da Mazzocca propaganda elettorale con l'USR fracassa polemico l'ex assessore di Teramo polemico con Mazzocca che è il responsabile dell'USR l'ufficio per la ricostruzione andiamo in basso a Tortoreto la cronaca bloccata la banda dei colpi in collina denunciati tre albanesi che avevano nell'auto attrezzi da scasso e poi multe a raffica a Roseto degli Abruzzi assoluzione per l'ex capo dei vigili urbani andiamo avanti siamo alla vicenda di Renata Rapposelli della pittrice morta Santoleri avevo paura di mio figlio il marito della donna spiega perché non ha accusato prima Simone per un errore si riapre il termine per l'abbreviato e poi a centropagina per seguita ex dipendente per fidanzarsi con lei rinviato a giudizio un 32enne di Tortoreto e poi in basso botte al tifoso avversario in tre a giudizio supporters del Prato La Peligna sotto accusa per un'aggressione dopo una partita con il Pontevomano siamo a Silvi quattro volontari salvano di sabile dall'incendio di una casa due uomini e due donne della protezione civile hanno portato al sicuro un uomo costretto a letto e poi Scerne colpo al Bargiolli rubati cambia soldi e poi Pineto il Movimento 5 Stelle inedificabile metà zona artigianale il consigliere Ferretti polemizza con l'annuncio del comune sull'area di Borgo Santa Maria siamo all'Aquila l'intervista con il ministro Riccardo Fraccaro l'Aquila dice il ministro nei piani del governo oggi Fraccaro interverrà al festival della partecipazione la città si è dimostrata più forte dice del terremoto del 2009 e si comincia oggi all'auditorium del parco nei quattro giorni non solo dibattiti e convegni ma anche momenti musicali e divertimento siamo a Sulmona le verifiche sulla 24 e a 25 vi adotti sicuri nessuna chiusura la società strada dei parchi dice dalle prove eseguite emerge che le strutture dei piloni non presentano problemi di staticità e poi l'Aquila intossicati dal cloro piscina sgomberata due persone finiscono in ospedale e poi video con minacce al sindaco biondi indagini in corso il nodo delle case da sgomberare a San Gregorio siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo attendere prima di parlare di sport perché ci attendono tra poco dopo questa breve pausa le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero e poi del quotidiano la città di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine dell'inserto abruzzo del messaggero il nodo autostrata il ministero niente lavori senza coperture finanziarie anche con l'impegno di Toninelli il dirigente non firmerà i decreti torno gli aumenti dei pedaggi traffico diminuito del 7% e poi scontro tra il ministero tra il MIT e la regione Paolucci il Movimento 5 Stelle fa campagna elettorale dice Paolucci e poi in basso l'intervista all'ex senatore Antonio Razzi divento leghista ma prima devo parlare con Salvini dice Antonio Razzi che dunque potrebbe lasciare Forza Italia siamo alle pagine di Pescara del messaggero il PD sceglie di Lorito ma per la provincia c'è l'ostacolo Catani il centro-sinistra converge sul nome del sindaco di Spoltore trattative con Di Matteo per evitare la doppia candidatura e poi c'è a te del fini d'oro Pescara premia i benemeriti nel segno del patrono abbiamo visto prima il servizio e poi concerti debutto con l'omaggio a Debussy domani sul palco del massimo il pianista François Joël Toilier con il suo omaggio al grande compositore francese e poi l'evento di Città Sant'Angelo attesa per la sinfonica abruzzese diretta dal maestro Alessandro Mazzocchetti UFO a Pescara il mistero mai risolto di 40 anni fa l'allarme scatenato da fenomeni anomali in un tratto di mare fino a San Benedetto e poi andiamo a vedere più a centro pagina si parla di commercio con i Deors in Piazza Muzzi Movida sempre più selvaggia e poi assalto alla Barcolana in gara le donne veliste pescaresi di fam fatale e poi senza patente tenta la fuga con la Mercedes arrestato e accaduto ieri a Pescara vigili del fuoco caserma vista mare caduta l'ipotesi di via Pantini poi destinata allo stadio pompiere aspettano una soluzione per una sede idonea preso atto del silenzio di Pescara il comando ha chiesto aiuto all'agenzia del demanio e di Lorito il sindaco di Spoltore dice venite nella nostra città e poi la beffa di San Cetteo varchi attivi alla ZTL anche nei festivi multe in vista per chi è transitato in queste zone e poi bussi tangenti post sisma via libera alle intercettazioni andiamo poi in basso parliamo del restyling delle centrotrisi hotel e cittadella dello sport così rinasce il centrotrisi e poi la notizia di cronaca che arriva da Rosciano in provincia di Pescara con il trattore contro un albero grave agricoltore che è stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale di Chieti siamo all'Aquila fuga di gas in piscina intossicati operaio e due istruttrici di nuoto e poi ex psichiatrico di Colle Maggio ancora incerta la destinazione vedete l'articolo di spalla e poi il viadotto di Gignano riaprirà a due corsie questa la novità che riguarda la viabilità aquilana e poi in basso progetto case domande fino all'8 novembre e poi riscaldamento a cessione anticipata i primi freddi fanno sì che all'Aquila e nella zona dell'Aquilano sia arrivato l'ok per accendere il riscaldamento andiamo a vedere e poi le altre pagine ancora l'Aquila sensori per traffico parcheggi e bus l'università sperimenta una rete wireless che servirà per monitorare la mobilità e l'aria e poi il rettorato a Palazzo Camponeschi poi Lectio Magistralis con Mattucci una foto su Facebook che certifica il ritorno alla normalità e l'amministratore delegato di Nissa sarà ad Ingegneria la sinfonica il gran concerto con Piovani l'evento che riguarda l'Aquila ha varato il cartellone superfinale per il decennale dal sisma con la sinfonia delle stagioni andiamo a vedere anche la pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna partiamo da Avezzano in pianto di compostaggio sitin dei sindaci summit e protesta sulle scale del tribunale poi in procura ricevuti ieri mattina ottengono l'impegno all'intervento e poi Roccaraso l'orafo Cocco Palmeri sbarca anche in Sicilia Avezzano piazza Torlonia vietate i cani scoppia la polemica ci spostiamo poi a Sulmona l'iter pronto soccorso arrestato un 38enne e poi ancora nella città Peligna vigilanza dalle 23 alle 3 di mattina l'ASCOM per tutelare i monumenti e garantire la sicurezza dopo i recenti episodi dunque l'ASCOM chiede una vigilanza anche nelle ore notturne torniamo ad Avezzano in veicolo contro l'avvocato di parte avversa condannato e poi sulla pista ciclabile il prefetto attende gli atti andiamo a vedere la pagina di Chieti del messaggero pulman bloccato dai tifosi scatta l'indagine della Digos la polizia ipotizza la violenza privata i danni di calciatori e staff tecnico al vaglio le immagini delle telecamere dello stadio per individuare i responsabili leggiamo un attimo un pezzo di questo articolo per capire di cosa si tratta è scattata infatti un'indagine della Digos dopo che un gruppo di tifosi del Chieti ha bloccato il pulman della squadra di ritorno da Prato alla Peligna la contestazione è scoppiata domenica sera a margine della sconfitta rimediata che aveva rimediato il Chieti nel campionato di eccellenza dunque questo quanto accaduto nei giorni scorsi e su cui come leggiamo da questo articolo è scattata un'indagine della Digos della questura di Chieti e poi comune salta il consiglio scoppiano le polemiche e poi a Palazzo Lepri si balla con il DJ Claudio Coccoluto in basso San Martino sulla Marrucino a Gio Bastianici il premio Masciarelli questa è la notizia che riguarda proprio il centro in provincia di Chieti appunto San Martino sulla Marrucina noi restiamo in provincia di Chieti ci spostiamo a Lanciano per parlare sempre della vicenda dell'assalto nella villa dei coniugi Martelli estradizione per il capo delle bestie scoccarabiniere squadra mobile a Craiova per riportare in Italia Marius Adrian Martin mente del colpo a Lanciano da come leggiamo in questo articolo l'uomo ha reagito con strafottenza all'arresto in Romania Carlo Martelli rinnovo i complimenti agli investigatori e poi la politica l'erodeputata Daniela Aiuto rompe con il Movimento 5 Stelle ma dice non mi dimetto e poi andiamo a vedere più in basso la sentenza soldi dei parcometri poeta condannato peculato due anni all'ex comandante della polizia municipale di Ortona e 70 mila euro di provisionale a favore del comune e poi vasto strade ok e gli appalti ma i fondi sono bloccati siamo a Teramo di Buonaventura vuole restituire parte delle deleghe al sindaco mancano soldi per asfalti e pulizia non posso tollerare questa situazione ha detto Valdo di Buonaventura non intendo dare le dimissioni anche se sono molto preoccupato e poi la paura autosfonda la sbarra del passaggio a livello nel sottopasso di Cartecchio e poi l'inchiesta rapina con lo spray sotto processo e poi stalking d'autore di lavoro perseguita la dipendente a giudizio e ancora cronaca giudiziaria ex capo cantoniere Anas condannato a due anni siamo alla pagina della provincia di Teramo Giustini ecco cosa fanno i vigili il comandante risponde al sindaco facente funzioni i cameli dopo l'accusa per la città non si vedono quasi mai o poco nella relazione emerge che sono 11 gli agenti impegnati in servizi esterni mentre tutti gli altri restano in ufficio e poi parliamo di provincia le elezioni alla provincia di Teramo sfida tra D'Alonso e di Bonaventura li vedete nella foto in questa stretta di mano con il presidente uscente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino noi andiamo a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli che fa proprio il punto in vista delle elezioni per l'elezione del nuovo presidente della provincia a Teramo il partito democratico al fotofin trova la quadra sul candidato alla presidenza della provincia di Teramo sarà Giuseppe D'Alonso sindaco di Crognaleto a rappresentare il centro-sinistra unito alle elezioni di fine mese il centro-destra invece conferma come proprio candidato Diego di Bonaventura sindaco di Notaresco abbiamo individuato la persona del sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso dopo un dibattito che c'è stato un dialogo che c'è stato all'interno del partito democratico e abbiamo trovato la convergenza sulla figura del sindaco Giuseppe D'Alonso che deteniamo sia la figura che meglio possa proseguire il lavoro intrapreso già dall'amministrazione di Sabatino nel sorco della continuità su quello che c'è da fare ancora intanto in provincia nella sede di Via Milli è stato già allestito l'ufficio elettorale e i due sfidanti alla poltrona di presidente cominciano a prendere confidenza con i luoghi istituzionali e parlano già di programmi prendo atto che è una responsabilità grande perché andiamo a gestire un contesto molto grande 47 comuni in un momento particolare dove vengono meno risorse dove c'è questa attività del sisma che ancora non riusciamo a sbloccare sarà uno degli argomenti che il presidente futuro se sarà Giuseppe D'Alonso porterà nella sua discussione quotidiana e nei tavoli operativi del sisma stesso la responsabilità da un lato è tanta ma dall'altro lato mi anima a fare ancora di più io sono come devo dire un combattente sul territorio forse la mia deformazione da vigi del fuoco mi porta ad affrontare le emergenze se questa dovesse essere un'emergenza Giuseppe D'Alonso cessa come risolverla uno degli obiettivi più importanti e qui lo chiedo se dovessi essere ecco eletto è quello di rideterminare una posizione non da frazione sulla regione Abruzzo perché è innegabile che per svariati motivi la provincia di Teramo è diventata la frazione della regione Abruzzo adesso senza noi che dobbiamo dire perché da tempo che è noto queste alchimie da potentati regionali io parlo che sull'Aquila siamo in downgrade su Pescara basta leggere i giornali voi vedete sui giornali si vanno Pescara città metropolitana l'Aquila oramai strutturata fra poco anche a prenderci i nostri cimiteri nel senso ecco io quello che chiedo a tutte le parti infatti se dovessi essere eletto unirei proprio le parti sociali la Chiesa con suo eccellenza il Vesco per dire a Regione Abruzzo che noi ci siamo andiamo avanti a Rosetto degli Abruzzi siamo sempre dalle pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero tolto il palo che si stava sgretolando davanti l'asilo e poi ad Albadriatica le telecamere guaste o spente e la sicurezza questa la domanda con una interrogazione del consigliere comunale di minoranza Giuliano De Berardinis e poi Giulianova milioni dal Regione per il polo scolastico e poi ancora furti in casa presa la gang rubati cambiamonete al bar questo a Tortoreto siamo arrivati allo sport dobbiamo attendere però per parlare di sport perché andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città masterplan scontro tra Ministero e Lolli passi in avanti intanto sul rinnovo del piano economico finanziario da 3 miliardi e 100 milioni di euro per le autostrade abruzzesi e poi anche sul quotidiano la città ritroviamo la notizia dell'euro parlamentare Daniela Aiuto che lascia il movimento 5 stelle in basso Avezzano convegno su web reputation e cyberbullismo l'evento è coordinato dal presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio siamo a Teramo rotonda ipogea pronta per la fine dell'anno ieri mattina l'incontro tra amministratori e rete ferrovia Italia il cantiere di Villa Pavone ripartirà tra pochi giorni e poi stangata perché arrivano le cartelle tari con l'aumento previsto dal commissario Pizzi andiamo a vedere anche altri articoli in questa pagina uno in particolare che arriva da Cartec abbattuta l'ennesima sbarra del passaggio a livello l'incidente in via Melozi ha paralizzato il traffico stradale e ferroviario licenziamento collettivo per puntare alla cassa integrazione i persimpli riunione in provincia i sindacati premono per accedere alle disponibilità previste dal decreto Genova e poi capo cantoniere condannato per concussione siamo sempre a Teramo l'impianto accusatorio regge a metà due anni e quattro mesi per una mazzetta assolto per altri due episodi l'EPM Luca Sciarretta al termine della sua ringa aveva chiesto il doppio della pena spunta l'idea del rappresentante degli stranieri in consiglio comunale la novità uscita in commissioni affari generali non piace però al consigliere Raimondo Micheli e poi il talento perché c'è anche una teramana nella fiction Rai con Gigi Proietti Claudia Stecker protagonista nella terza stagione di una pallottola nel cuore andiamo avanti vediamo un'altra pagina del quotidiano la città eccola qui provincia i candidati si incontrano in via Milli abbiamo visto appena qualche istante fa il servizio di Tania Bonnici Castelli con Diego Di Bonaventura e Giuseppe D'Alonso candidati su poli opposti alla presidenza della provincia di Teramo al posto dell'uscente del presidente uscente Renzo Di Sabatino e poi enti il consiglio provinciale approva la variazione di bilancio 2018 tra le somme previste anche 100 mila euro per chiudere definitivamente il contenzioso con l'istituto Braga e poi masterplan ricorso contro la sentenza del Tar la regione si oppone alla decisione sulle percentuali per le spese tecniche l'ira di architetti e ingegneri e poi Giancarlo De Santis torna all'attacco sui ritardi nella ricostruzione la provincia di Teramo dice sta perdendo un'occasione più unica che rara che permetterebbe di tornare a livelli pre-crisi e poi ancora Teramo lui torna all'attacco sui trasporti universitari l'associazione studentesca segnala nuovi disservizi per raggiungere il campus dell'università di Teramo ancora Teramo Palazzo Pompeti oggi la nomina del RUP successivamente il progetto per la messa in sicurezza del palazzo inagibile arriverà sul tavolo del cor regionale eletti tutti i segretari di categoria della CGL si sono infatti conclusi martedì gli 11 congressi itineranti organizzati dal sindacato sul territorio teramano più in basso presentate le attività invece del servizio educativo del polo museale di Teramo obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale della città ci spostiamo in provincia tra i tifossi a giudizio per il pestaggio post partita tutti di Prato la Peligna hanno aggredito un ragazzo di 27 anni al termine del match a Villa Vomano e intanto a Montorio al Vomano fratelli d'Italia al fianco di Facciolini sulla revoca delle deleghe alla Nori l'ordine degli architetti Teramano ha la sua nuova commissione pari opportunità incontro con il presidente la nostra collega Tania Bonici Castelli e la consigliera Vasanella in basso sapere investire in modo consapevole risparmi organizzato dalla Banca del Gran Sasso d'Italia alla Corte di Etini questo importante convegno andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano La Città che ci porta a Tortoreto liberi basisti della banda della marmotta accolta l'istanza dell'avvocato degli Intensa padre e figlio di Tortoreto arrestati perché coinvolti nei colpi ai Bancomat e poi Tortoreto aperte le iscrizioni per il corso base di protezione civile in basso ancora a Tortoreto albanesi trovati in possesso di arnesi da scasso fermati dai carabinieri siamo a Mosciano energia sicura grazie al centro distribuzione taglio del nastro incontrato a Salinello dell'impianto di ultima generazione al servizio della fascia costiera ancora Giulianova in questo caso festa dei defunti pubblicato il bando per la vendita dei fiori e poi 6 milioni di euro per le scuole giuliesi treplessi cittadini inseriti nella graduatoria del piano triennale regionale cronaca si innamora e perseguita la ex dipendente a processo un imprenditore 75enne siamo a Roseto ancora cronaca quattro giovani rosetani a processo per la rapina con lo spray urticante aggredita e derubata una donna che stava salendo in auto punta a penna a Sant'Andrea e poi l'iniziativa serie di incontri di Atricivica su tutto il territorio comunale in basso a Triattavola e Rurabilandia protagonisti del villaggio col diretti a Roma proseguiamo Pineto l'amministrazione getta fumo negli occhi dei cittadini lo dice l'opposizione e poi a Pineto ancora convegno nazionale sul capitale naturale appuntamento domani con gli esperti ospiti dell'area marina protetta torre del Cerrano ci spostiamo poi in basso a fondo pagina Silvi alla scoperta della liquirizia con De Ascenti si incontra domani sera alla libreria Riobò con l'associazione Il Veliero siamo arrivati alla pagina della cultura nella Bibbia la parola delle parole a Pineto un ciclo di quattro incontri con il vescovo di Teramo Atri Monsignor Leuzzi di Sante Zorzi e De Virgilio arriviamo alle pagine dello sport del quotidiano La Città Speranza fa scudo ma dobbiamo uscirne il difensore del Teramo noi esperti trascineremo questo gruppo fuori dalla bassa classifica e poi la Sant'Egidiese dopo l'amichevole con la Viola pensa al match di domenica Gialorossi hanno giocato con la Fiorentina allo Stadio Franchi adesso la sfida alla prima della classe il Castelnuovo Vomano Serie D la Coppa Italia Giulianova Re di Coppa battuto il Cassino Gialorossi Vincenti Alfadini contro i Laziani per 2 a 1 andiamo a vedere le pagine dello sport del centro azzurri tra luci e ombre 1 a 1 nell'amichevole di ieri tra Italia e Ucraina a Genova e poi il caso del presunto stupro nel 2009 il Real obbligò Cristiano Ronaldo a pagare e la polizia vuole interrogare il giocatore il legale ribatte carte manipolate siamo alla pagina che riguarda la Serie B parliamo del Pescara e a parlare dei Biancazzurri è il re dei bomber del torneo cadetto si tratta di Swoc che dice il Pescara può andare in Serie A il mio sangue è Terramano Pilonne mi piace Mancuso è una sorpresa con un po' di continuità potrà fare la differenza il giovane da seguire Melegoni mi ricorda Tardelli favorite Benevento e Verona queste le dichiarazioni di Swoc intervistato per parlare del Pescara in basso caos infinito ripescaggi il Tar boccia i ricorsi di Catania e Siena e poi è stato operato l'attaccante del Pescara Cristian Capone tornerà prima di Natale andiamo a vedere la pagina che riguarda la Serie C Speranza chiama i senatori Teramo ora tocca a noi l'esperto capitano suona la carica in vista della gara di sabato a Rimini e poi come detto la Coppa Italia Giulianova approda agli ottavi grazie al 2-1 inflitto ieri al Cassino a tal proposito possiamo andare a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini Il Giulianova batte 2-1 il quotato Cassino e avanza agli ottavi di Coppa Italia di Serie D il prossimo 28 novembre i giardossi se la vedranno col Flaminia Civita Castellana il sorteggio dirà chi tra le due giocherà in casa la partita nel Giulianova assenti per sporifica del grosso Ferrante Tozzi Borsoi stallone rimedia con Ferrini centrale Fazzini esterno destro Frulla e Palladini in mediana con Foro in avanti Torelli a sostegno di Di Paolo Cassino con vecchie conoscenze da Bruzzo l'ex Vastese Prisco al centro dell'attacco panchina per l'ex Valdisangro Brac per l'ex L'Aquila Carcione partita giocata a buon ritmo sin da subito con Foro che impegna a terra della pietra l'undicesimo replica del Cassino al quarto d'ora con il colpo di testa di Ricamato e al diciannovesimo quando Lombardi dal limite non trova lo specchio della porta Cassino più manovriero Giulianova più incisivo in avanti al trentasettesimo Torelli sfonda a destra e mette dentro Di Paolo non riesce a girarsi ma appoggia a Foro della pietra vola e si rifugia in corner il Giulianova però passa al quarantaduesimo punizione di Frulla nel mucchio svetta Ferrini della pietra risponde ma nulla può sul tap-in facile facile di Di Paolo il sinistro di Prisco precede di un soffio il fischio di Capriolo di Bari per l'intervallo al rientro il tecnico ospite Urbano gioca la carta del bomber Marcheggiani ma il Giulianova raddoppiare dopo appena 80 secondi Frulla per Torelli che crossa dal fondo per il colpo di testa di un puntualissimo Di Paolo doppietta per l'attaccante ma partita non chiusa perché all'undicesimo Lombardi trova centroarea Mannone che di testa di mezza il distacco 2 a 1 la partita si fa ruvida il Cassino si riversa in avanti ma il Giulianova si difende bene nonostante i tanti giovani messi dentro da Stallone nella ripresa gli unici brividi per i giolarossi li fa correre Ricamato che al quarantesimo non arriva su un traversone nel quinto e ultimo minuto di recupero indirizza centralmente dopo la spizzata di Prisco Shiba blocca prima del triplice fischio finale nel dopogara il presidente Bartolini annuncia novità nei quadri dirigenziali del Giulianova in settimana annunceremo l'entrata in società con la carica di direttore generale di Franco Teodoro Franco un amico è stato due anni fa allenatore della nostra Junior e sta vincendo il campionato Franco è uno degli amici che ho più cari qui vicino a Giulianova è giusto che faccia parte di questa società con un ruolo importante si sta operando per trovare dirigenti importanti prossimamente annunceremo un nuovo vice presidente ho avuto un colloquio prima della partita con questa persona diremo il nome quando avremo fatto tutto però ecco Franco Teodoro avrà il ruolo di direttore generale e anche in parte quello di direttore sportivo perché sono due ruoli che non abbiamo quindi farà il direttore a 360 gradi sia in campo che fuori dal campo quindi piano piano stiamo costruendo una società che possa ambire a fare questa categoria nella maniera migliore e un giorno chi lo sa sperare di fare un altro passo in avanti questo è il servizio sulla gara del Giulianova vediamo il messaggero Sebastiani in classifica Pescara non guardarla il presidente fa il punto nella settimana della sosta e promuove pillone intanto si ferma Crecco è stato operato anche Capone in basso il Teramo Speranza ora dobbiamo dare tutti di più chiudiamo con i risultati della settima giornata del campionato regionale di eccellenza gare che si sono giocate ieri parte bene l'era Lucarelli per il Chieti che batte la Miternina 3 a 0 e poi Acquessapone Paterno 3 a 2 Delfino Flacco Porto Albadriatica 2 a 2 Spoltore Nero Stellati 3 a 2 Sambuceto Torrese 1 a 1 si ferma la capolista Pontevomano Angolana 3 a 3 Capistrello Penne 1 a 0 Nereto Cupello 1 a 0 Martinsicuro Miglianico 1 a 2 siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 questa sera non perdete in diretta alle 21 come di consueto dai nostri studi l'appuntamento del giovedì con Velo con Luciano Rabbottini e Jacopo Forcella per parlare di ciclismo grazie ancora e buona giornata grazie a tutti